Presidente, Presidente, Presidente! Grazie, Presidente! Presidente, Presidente, la sua presenza qui per noi è davvero un onore che non avremmo mai potuto neanche sognare. Grazie a nome di tutta la Coma in Italia, insieme alla Presidente, professoressa Terribile, le vorremmo consegnare questa targa con il pettorale numero uno della venticinquesima edizione della Race for the Cure. come semplice ringraziamento sia per tutto il lavoro che fa per il nostro Paese, sia per l'esempio che ci dà ogni giorno, ma anche e soprattutto per l'impegno istituzionale e personale che ha sempre messo a favore delle donne e della loro salute. Grazie, Presidente! Professor Riccardo Masetti e la professoressa Daniela Terribile consegnano il pettorale numero uno della Race for the Cure al Presidente della Repubblica Mattarella, il pettorale numero uno per questo immenso privilegio di avere la presenza del Presidente al venticinquesimo anniversario della Race for the Cure. Un augurio per chi partecipa, ai tanti che partecipano, un ringraziamento alla Funzione Common per questa iniziativa, ma soprattutto per quello che fa ogni giorno per questo fronte fondamentale per l'umanità. Grazie per quanto fate e buona gara! Grazie a voi!